Beh, devo dire che oggi siete stati fortunati perché ormai siamo quasi a metà del giro del Basta Eurotour ma la possibilità di avere un lancio come Salvini e Giordano non mi è ancora capitato, infatti il mio lavoro è molto più facile oggi. Pertanto voglio fare qualcosa di un po' diverso rispetto alle altre volte, di solito facevo un discorso più preciso, invece in questo caso, passatemela, voglio chiacchierare come se fossimo a casa. D'altra parte, nello specifico, uno è a casa quando ha la famiglia. E allora voi siete diventati la mia famiglia ma soprattutto... Ma soprattutto è la prima volta che ho qua mio papà e mia mamma. Genitore uno e genitore due, no? Papà e mamma. Papà e mamma perché loro sono di Carnate, quindi insomma siamo qua vicini, infatti a me fa molto piacere, vorrei proprio chiacchierare come se fossimo in famiglia. E volevo raccontarvi del perché abbiamo cominciato a dire queste cose, perché abbiamo cominciato a spiegare queste cose e soprattutto perché Matteo Salvini ha deciso di impostare come priorità questa battaglia per la Lega. Perché non è una cosa ovvia e penso che per chiunque di voi è militante da bambino, un cambiamento così forte suppongo che non l'abbia mai visto, no? E allora probabilmente, legittimamente, si può anche domandare e dire ma che cosa sta succedendo. Sta succedendo, è una cosa giusta, è un'idea elettorale. Ogni tanto c'è qualcuno che dice ah ma è un'idea elettorale, no? Questa cosa dell'euro. E no, è il minimo che una persona responsabile, seria e che ha a cuore la propria gente, come è Matteo Salvini, poteva fare nel momento stesso in cui ha visto il pericolo. E lui è stato molto intelligente, lui è stato molto umile, perché rispetto al politico medio, che invece vuol sempre raccontare lui come gira il mondo, no? Anche se non sa nulla, no? O similari. Lui invece ha voluto imparare. Ha studiato tantissimo, si è documentato, è arrivato, mi ha chiamato, mi ha chiesto opinioni. Ha chiesto opinioni anche di altre persone che la pensavano diversa da me, perché giustamente non è che uno arriva, dice, sente il primo che passa, no? Seppur che sia convincente, no? Poi dopo però prende... No, no, ha chiesto opinioni ad altra gente che la pensava diversa da me. Ha valutato e ha detto, no, secondo me c'ha ragione Borghi. E a quel punto era conseguenziale, vale a dire, il pericolo era lì e andava gestito. E quindi ha fatto una cosa davvero statista, vale a dire, si capisce che cos'è, si prendono dei rischi, si rischia di perdere due voti, tre voti di qualcuno che magari non capisce, non conosce, ma se uno ha di fronte la responsabilità di una comunità, a quel punto la responsabilità di quella comunità comporta fare delle scelte. E lui è riuscito a farlo e quindi bisogna ringraziarlo veramente. Tenetevelo stretto, teniamocelo stretto, perché secondo me un segretario come Salvini è molto difficile trovarlo. E quindi teniamocelo stretto. E com'è andata? E com'è andata, anch'io non avevo capito. Il quadro di bugie che ci è stato costruito sull'Unione Europea era così forte che pure io, che era il mio mestiere, neanche ci badavo. Vabbè, io ero responsabile azionario Italia della Deutsche Bank, pensate un po'. Cioè, banca tedesca, quindi in teoria dovevo vederle tutte le cose. Però non le vedevo perché guardavo le cose così da vicino che magari per vedere i dettagli della tela non mi rendevo neanche conto se era un ritratto o un paesaggio, quello che stavo guardando. Come sempre succede quando sei lì con una lente di ingrandimento troppo grande. A un certo punto mi sono ritirato nel 2008 e ho ricominciato a fare quello che effettivamente era il mio mestiere. Perché giustamente Mario Giordano dice, gli economisti sanno spiegarti molto bene quello che è successo, verissimo. Io però non è che ero un economista normale, io lavoravo in borsa, lavoravo nei mercati finanziari. E quando la mia bambina mi chiedeva, ma che cos'è che facevi, cosa fai di lavoro? Io non sapevo mica tanto rispondergli perché vai a dirgli delle azioni e questo tipo. Allora a un certo punto non sapendo bene cosa fare, gli ho detto, io prevedo il futuro. E allora la bambina ha capito tutto benissimo, cioè l'ha presa come una cosa ottima risposta. Giustamente nelle storie c'è sempre il mago, così questo tipo, perfetto, mio papà fa quella cosa lì. E quindi è molto giusto, che è più o meno quello che deve fare chi lavora nei mercati finanziari. Allora, io ritiratomi, perché mi sono ritirato nel 2008, un mestiere che bisogna farlo da giovani, perché sennò poi dopo quando cominci a essere un po' arrugginito rischi di fare disastri, io non volevo farne. Avevo fatto il percorso netto fino all'epoca, ho detto aspetta un po'. Ritirandomi a un certo punto, guarda, documentati. Un giorno, è stato proprio un giorno, mi si sono uniti tutti i puntini. Ho letto un articolo sulla Grecia, ho visto che cosa stava succedendo nella Grecia, e a quel punto ho capito che stava accadendo un'aggressione finanziaria ad un popolo, e tutto mi è risultato chiaro, anche tante cose che avevo visto nella mia vita professionale prima, e che non avevo messo nella casella giusta, mi è stato... Beh, qui per esempio mi allievo davanti all'università, sa che io non parlo di queste cose in università, perché alla fine sei sempre in uno schema che ti porta a ripetere le stesse cose, è difficile fare il salto e capire che invece sta succedendo qualcosa di differente. E in quel momento invece mi è risultato tutto chiaro. E allora da quel punto lì, quando ho visto la palla nella nave, così come la chiama giustamente Giordano, prendendo a prestito il mio esempio, l'unica cosa che uno può fare, non è che sono un genio, non è che sto facendo niente di strano, vedi la palla e dici, oh c'è la palla, vaturata, basta, bisogna scappare, ma bisogna scappare velocissimamente. Più che una palla, io la considererei in questo momento la tonnara. Cioè noi siamo diretti, sparati dentro la tonnara, no? E se ti accorgi che quella, nuotavi felice nell'oceano, e se ti accorgi che quella rete che vedi intorno non è lì di bellezza, ma ti sta portando in un posto dove ti ammazzano, la prima cosa che puoi fare è dire aiuto, fermiamoci, basta. E quindi non sto facendo niente di strano. Alla fine io ve lo spiego più o meno sempre così. L'economia può anche essere complicata, no? Ma alla fine è tutta data da cosa fanno le signore quando vanno a fare la spesa. In buona sostanza non c'è la scienza, le formule e così via, no? Le formule degli economisti spesso e volentieri sono fatte semplicemente per arrivare poi dopo a mettere in un modo breve e razionale il comportamento di una signora che al mattino va dentro in un supermercato. E se noi andiamo al mattino in un supermercato e ci sono due prodotti, uno fatto in Italia e uno fatto all'estero, e quello fatto all'estero costa di meno, noi tante volte, sì, quando c'è scritto Italia magari ci viene da comprare italiano, no? Ma normalmente è scritto piccolissimo sul retro della scatola, non ce ne accorgiamo. Se quello che è fatto all'estero costa di meno, compriamo quello fatto all'estero. E' normale, specialmente se i soldini che abbiamo in tasca sono sempre di meno. A un certo punto, pochi soldini in tasca, arriviamo lì e compriamo quello che ci costa di meno. Non stiamo facendo un delitto, stiamo facendo un comportamento perfettamente normale, perfettamente corretto. Ecco, voi immaginate la moneta, che cosa serve? Tutti pensano che la moneta sia una cosa neutrale, ma sì, ma... Come possiamo dire che è l'euro la colpa, no? L'euro è lì, non fa niente, anzi, sta nel mio portafoglio, ci compro da mangiare. Come può essere un pericolo quella cosa lì? Non lo percepiamo. E beh, invece immaginate due paesi con due monete uguali, che tutte e due fanno due frigoriferi, che tutte e due fanno due lampade. So, per esempio, ci sono tante industrie qua a Bergamo che fanno materiali di qualità, molto belli, ma non siamo gli unici al mondo che fanno prodotti di qualità. Ci sono altre che li fanno simili ai nostri, magari un po' più brutti, un pochettino più belli, no? Da un'altra parte. Allora, finché noi con cento... Cos'era una moneta antica di Bergamo? Il Ducato. Allora, se noi con cento Ducati bergamaschi compriamo un frigorifero e dall'altra parte c'è un altro stato dove con cento fiorini dello stato B comprano lo stesso frigorifero fatto in quel paese, tutti andiamo bene, tutti andiamo d'accordo, no? A un certo punto arriva qualcuno e artificialmente ci fa valere di più il Ducato, cioè ci dà una moneta molto forte, all'inizio sembra una buona cosa, perché c'è questo aggettivo, giocano con gli aggettivi, forte, ci piace avere una moneta forte, chi è che vuole avere una moneta debole? No, vogliamo una moneta forte. E allora cosa succede? Con un Ducato vale due fiorini. Bellissimo. Allora a quel punto lì che cosa succede? Andiamo per comprare il frigorifero, il nostro frigorifero continua a costare cento Ducati, perché è quello prodotto qua. Quell'altro cosa costa? Cento fiorini. Ma io con cento fiorini per me sono cinquanta Ducati, perché abbiamo detto che si è rivalutato il valore del mio Ducato, quindi quello costa cinquanta Ducati. Io vado al supermercato, compro il frigorifero che costa cinquanta Ducati, non sto facendo una cosa sovversiva, non sto facendo un danno colpevole alla mia popolazione e così via, sto facendo una cosa normale. Sono due prodotti più o meno simili, compro quello che mi costa di meno. Devo far quadrare il bilancio. Ho comprato il mio frigorifero a 50 Ducati e sono anche contento. Dico, visto i vantaggi della moneta forte, mi costa di meno il frigorifero. Signori, sì, è vero, costa di meno il frigorifero, però quel giorno lì la fabbrica di frigorifero di Bergamo non ha lavorato. E se io poi dopo, mentre approfitto del fatto che sono negozi di frigorifero di Bergamo, vuoto, dico, caspita, è vuoto, vabbè, vado a comprarmi un vestito. Vado a comprarmi un vestito e anche lì il vestito mi costa cinquanta Ducati, quello invece fatto nel paese di fianco, adesso costa venticinque. compro quello lì e la fabbrica di vestiti vuota. Quindi nel mentre che all'inizio c'è questa sbornia, no, di gente che è convinta di avere il potere d'acquisto migliorato, che è convinta che le cose vanno meglio e così via, tante lettere stanno venendo scritte. E su queste lettere c'è scritto se hai licenziato. E' quello che ci sta succedendo. Una moneta troppo forte per noi porta che il lavoro scappa. E chi è che è esploso prima in Europa? Non i paesi che avevano più debito pubblico, non i paesi che avevano più tasse, non i paesi che avevano più corruzione, quelli che avevano le monete più sbagliate. Come fai a mettere la dracma greca insieme con il marco tedesco? Loro sono saltati per prima. Come fai a mettere la sterlina irlandese che aveva una moneta che si chiama Pant, che nessuno neanche se la conosceva, insieme con il marco tedesco? Saltati anche loro. La pesetta spagnola, saltati. E li stiamo pagando tutto noi, eh? Perché questi, se sono ogni tanto, ti dicono, ah, miracolo, migliorano. Certo, se tu licenzi tutti e alla fine sei a zero di occupazione e poi quando ne assumi uno, pagato da noi, allora puoi fare il titolo del giornale e dici migliora la Spagna, migliora la Grecia, ci credo. Ma se noi andassimo qualche volta a vedere cosa hanno fatto in Grecia, rimarrà nella storia come un genocidio. Noi ci andiamo, racconteremo quando sarà finito tutto questo incubo, racconteremo questo periodo così come adesso si racconta del nazismo e di quelle cose e si dice ma guarda, ma è incredibile, ma non si capisce cosa poteva succedere, ma come mai? Eppure sta succedendo così. Perché? Perché hanno voluto fare una cosa che non poteva dare un altro risultato. Non ci hanno raccontato ci mettiamo tutti assieme per andare a combattere contro la Cina di questo tipo, cosa del tutto inspiegabile perché chiunque capisca un minimo di economia sa che se la Cina che ha sempre prodotto roba a basso costo ma se alza il tenore di vita dei suoi abitanti diventa un mercato per i nostri prodotti. Cioè se i nostri prodotti avessero il prezzo giusto e ci fossero i cinesi che a un certo punto si innamorano delle lampade prodotte qua a Bergamo, qua a Bergamo a un certo punto devi mettere cento capannoni per produrre le lampade da dare ai cinesi. Non è il contrario perché se il tenore di vita del cinese si alza diventa un mercato incredibile. Però non lo volevano dare a noi questo mercato. Noi abbiamo sempre dato fastidio. Il Nord Italia ha sempre dato fastidio. e non lo dico io perché finché il Borghi ma no lo dice Hans-Olaf Henkel che era l'ex presidente della Confindustria tedesca che si è pentito l'ho visto ancora ieri a Roma perché è con me nel manifesto degli economisti che vogliono smantellare l'euro si è pentito e mi racconta cosa succedeva negli anni 90. Negli anni 90 a un certo punto noi avevamo fatto questa cosa terribile la svalutazione no? Orribile perché che poi anche lì le parole la svalutazione come se tu fossi no è stato semplicemente rimettere la moneta al punto giusto perché anche prima era troppo forte c'era lo smè vi ricordate era il periodo in cui avevano fatto una prova dell'euro e come andava? Eh perché anche qui uno dice magari mi sta inventando delle cose e no io ho fatto un minimo di lavoro d'archivio ma potete adesso fortunatamente con internet non scappa niente potete tranquillamente andare anche voi a riprendere quindi non è che vi dico bugie e nel momento stesso in cui nell'87 fissarono il cambio e quindi dissero ancora una volta disattiviamo l'industria del nord Italia che ha quella lira lì conveniente no? Allora vediamo un attimino di convincerli l'Italia sempre come dei polli no? Perché per la maggior parte dei casi i politici non hanno mai avuto un'impresa un'industria e così via perché chi lavorava era lì in fabbrica non c'aveva tempo di andare a occuparsi di queste cose quegli altri invece li portavano nel consenso europeo no? gli facevano vedere queste cose ah benissimo entriamo nel club dei ricchi più poltrone più sprechi più belle cose da poter fare allora dicevano sì sì guarda portiamo questo bel gruppo di gonzi ma buona parte sarà anche stata riccamente pagata no? perché l'elite industriale economica italiana aveva tutto l'interesse da sempre di giocare allo sfascio perché se poi dopo andava tutto a remengo si potevano comprare tutto con un piatto di lenticchie specialmente le cose piccole e di qualità tenute in maniera che era sempre stato lo zoccolo duro dell'industria italiana vale a dire piccole industrie di gente motivata incacchiata che si svegliava la mattina e faceva un prodotto di alta qualità quello non andava bene e beh cosa succede hanno fissato il cambio e questo è del 90 no? quindi stiamo parlando di 25 anni fa mica mica tanto mica tanto ieri ovviamente fissi il cambio comincia a succedere quello che si diceva vale a dire comincia a comprare prodotti esteri comincia a comprare prodotti esteri sale la disoccupazione signori se sale la disoccupazione non pagano più neanche le pensioni eh eh ieri all'incontro degli economisti si dicevano che già adesso con la disoccupazione che c'è la differenza fra le pensioni che vengono pagate i contributi che vengono incassati è 40 miliardi all'anno 40 eh quindi le pensioni non c'è un salvadanaione a Roma no? da cui si viene attinto delle robe che poi vi arriverà le pensioni sono pagate da chi lavora se uno non lavora le pensioni scordatevele eh i i lavori dipendenti negozi così questo tipo se se viene a calare poi dopo il gettito fiscale e così via dai lavoratori dove li vanno a prendere? secondo voi? dai? dai ri? dai risparmi e dove sono i risparmi? qua? quindi pensate che pensate che geni che vi succede qua al nord Italia allora vi siete fatti un mazzo così no? lavorando dalla mattina alla sera poi dopo cosa succede? adesso vi disoccupano a viva forza e poi quello che avete messo via ve lo portano via perché? perché non ci sono più soldi per il lavoro perché non si cresce è ovvio e beh cosa succedeva qua? 90 allora andavamo esattamente nella stessa china Formica vuole 40.000 miliardi manovra tutto campo nuove tasse marcatura stretta sugli evasori fiscali evasore fiscale significa uomo del nord che ha sempre pagato tutto questo è traduzione di evasore fiscale allora no perché allora evasione fiscale tassazione dei risparmi tassazione dei pedaggi autostradali aumento dell'iva per armonizzazione comunitaria perché l'importante è sempre scegliere le parole no? l'armonizzazione comunitaria cioè ti tassano l'iva e poi ti aumentano l'iva l'armonizzazione comunitaria guardate giustamente cosa fanno? vanno a prendere sulle case no? novità sul fronte degli immobili 25 anni fa le novità sono parecchie allora l'ici assorbirà l'ILOR relativa ai fabbricati ai terreni mentre l'ISCOM imposta sui servizi comunali rileverà l'ICCAP la rimanente l'ILOR dovrebbe trasformarsi in imposta erariale il catastro è a buon punto con la riforma 25 anni fa con cambio bloccato è sempre quella e e non e tutto nonostante tutto ovviamente perché se tu sei in crisi perché non vendi il tuo frigorifero perché quello là costa la metà ma qualcuno ma mi vuoi spiegare ma che cavolo c'entra mettere una tassa patrimoniale o mettere le tasse sui risparmi o mettere le tasse su chi ancora lavora non c'entra nulla è evidente c'è differenza di competitività tu quello devi pensare di risolvere no? non il resto il resto ti peggiora ancora la tua condizione eppure va tutto peggio no? va tutto peggio sta andando tutto a remengo e qui siamo vicini alla data del disastro 92 Agnelli ed Abete due settimane di tempo per evitare il disastro allora Agnelli dice ovviamente un altro che di sicuro se andava tutto a patrasso lui non gli fregava niente i due soldi ce li ha poteva prendere quello che voleva e allora dice anzi se non si utilizzerà il periodo di non svalutazione della lira che speriamo sia lungo per fare qualcosa sarà un disastro questo è lo solito il disastro no? non si argomenta niente il disastro allora bisogna subito privatizzare due o tre aziende pubbliche leggi che me la compro io a gratis no? date Milani l'agenzia nazionale idrocarburi no? allora alla fine sempre lì punta allora mentre mentre loro volevano che voi gli davate Lani allora il governo faccia ste pubbliche per vendere e poi arriva il genio no? l'economista Mario Monti lancia un'idea abbiamo riserve aure importanti impegniamole una parte diamole in garanzia vedete il venduto vedete già da allora questo lavorava per far sì che noi regalassimo le nostre cose è il mestiere dello strozzino cioè vale a dire ti indebita dopo che ti hai indebitato a quel punto tu quella bella roba che tutti volevano e che tu non vendevi fino a che eri in condizione di buona salute finanziaria a quel punto arrivi a miti consigli e gliela regali è così è la tattica dello strozzino e poi dopo cosa succede? ovviamente all'epoca non c'era l'euro era più facile da disgregare no? la faccenda svalutò tutto dopo il 13 settembre del 92 alla fine successe questo disastro che la lira si staccò da questo cambio falso e sopravvalutato che aveva e tornò al suo cambio normale non la svalutazione competitiva che dicono è il cambio normale dato dal mercato della tua moneta successe e a questo punto uno si aspetta il disastro si aspetta le cavallette si aspetta l'inflazione si aspetta le carriole si aspetta la povertà si aspetta che la gente sta negli angoli delle strade no? è tutto quello che vi dicono adesso si aspetta che i risparmi svaniscono si aspetta che i mutui raddoppiano si aspetta che tutto va a remengo eh riassorbite in un mese tutte le perdite euforia in piazza affari questa me la ricordo ero giovane ero lì sono stati ancora una volta gli stranieri a inaugurare il 93 nel segno fuocoso del toro in questa settimana in un crescendo d'affari furibondo la borsa ha conseguito il risultato e a un certo punto vediamo cosa succede a Bergamo eh perché adesso Bergamo eh un vostro connazionale eh Miro Radici eh 93 la svalutazione ci ha aiutato esportiamo meglio la nostra solidità ci permette di crescere velocemente stiamo assumendo eh la Ghevis eh più eh 35% di fatturato stiamo pensando di eh richiamare tutte le persone che avevano che avevamo lasciato a casa e che adesso invece dato che gli ordini ritornano possono possono ricominciare eh cosa abbiamo abbiamo per esempio sempre perché sempre perché parliamo di cose che non esistono no bilanci in ripresa grazie alle esportazioni le città della bella Italia questo 94 no la ripresa economica in Italia è selettiva e allora cosa sono le città che vanno meglio Bergamo Biella Varese Como no è tutto che ricomincia a funzionare eh dopodiché 95 la nostra economia ha realizzato un'ottima prestazione l'Istat ha confermato ieri che la crescita è stata del 3% il ritmo di sviluppo è stato più elevato di tutti gli altri paesi industrializzati gli Stati Uniti hanno registrato il 2% l'1,9% la Germania 2,4% la Francia e noi invece avevamo guarda caso il 3% no e quindi eravamo in salita costante e continua eh dopodiché abbiamo eh sempre le imprese qua che dicono che la Volkswagen con il supermarco i piccoli ridono e quindi abbiamo questo signore eh Marco Bonometti a capo delle officine meccaniche rezzatesi dice gli uomini della Volkswagen e dell'Audi stanno battendo la Lombardia alla ricerca dei fornitori capite no i corrotti eh i lazzaroni e cose di questo tipo no perché stranamente hai la moneta sbagliata diventi corrotto lazzarone e così via la moneta torna giusta il tedesco si fionda a comprare i tuoi prodotti perché sono fatti meglio e non possono non saperlo perché le persone sono le stesse Monti Draghi erano dentro negli stessi comitati erano lì nell'epoca quindi vi hanno scientificamente disoccupato vi hanno scientificamente disoccupato però adesso veramente io voglio dirvelo voglio dirvelo da amici no no ve lo dico ve lo dico così perché uno dei grossi dei grossi disastri che hanno fatto una delle robe dove loro sono stati proprio più bravi è farvi credere che non c'è scelta se voi sentite da tutte le parti vi dico è inevitabile tutte le cose che dobbiamo fare adesso non si può fare ma gli stessi amministratori locali io non voglio invidiare chi è sindaco chi è consigliere comunale questo tipo che si ritrova con un bilancio totalmente vuoto si ritrova con uno che chiede sempre più tasse e alla fine l'autonomia che cos'è l'autonomia di fare lo sceriffo di Nottingham cioè uno magari è anche il miglior amministratore locale di questo mondo e invece di avere delle idee per rendere una città più bella per dare più servizi e così questo tipo deve semplicemente vedere dove tagliare dove prendere a chi andare a prendere più soldi e così via non è un bel lavoro e tutto è inevitabile la parola è sempre quella non si può far niente arrivano i diversi governi di destra di sinistra uguali come gli ultimi tre perché Monti Letta e Renzi sono esattamente la stessa cosa sono degli esecutori di quello che che loro vogliono fare cambia cambia la faccia ma il compito che gli è stato assegnato è sempre è sempre quello e vi dicono che non si può scegliere è inevitabile ci sono i vincoli di bilancio non si può fare altro no possiamo scegliere posso darvene una prova posso darvene una prova con due nazioni non vado a prendere il Giappone cose lontane prendiamo due nazioni europee non particolarmente fortunate che un po' di anni fa erano in posizioni parallele e sono l'Ungheria e la Grecia quindi vedete che non è che vi sto dicendo l'Inghilterra l'America altre cose strane l'Ungheria e la Grecia due nazioni come tante ce ne sono insomma la Grecia era messa un pochettino meglio di altri perché ovviamente anche una posizione più fortunata ricchezza storia l'Ungheria Porelli sono lì in mezzo alla pianura c'è poco da fare però a un certo punto cosa succede una ha detto voglio fare tutto quello che l'Unione Europea ci dice di fare che era la Grecia gli altri hanno detto è arrivato su uno una specie di adesso gliene dicono di tutti i colori che è brutto che è nazista che è populista che è xenofobo cosa di questo tipo sembra quello che dicono al leghista medio quindi c'è questo signore che si chiamava Orban allora lui arriva e nonostante avesse in casa il Fondo Monetario Internazionale perché quelli di prima si erano indebitati di sinistra si erano indebitati avevano portato in casa il Fondo Monetario Internazionale e allora a un certo punto cosa succede tutti questi qui gli dicevano tu adesso devi fare come ti diciamo noi da bravo come la Grecia lui ha preso e li ha mandati fuori a calci in culo molto banalmente a un certo punto ha detto no mi spiace non faccio quello che dite voi tu devi alzare le tasse perché devi fare austerità no io le abbasso guardate un po' allora le abbassate ah ma tu però dopo non riesci a ripagare i tuoi debiti restanti guardate questi sono i tuoi debiti restanti del Fondo Monetario Internazionale che noi non abbiamo fuori dalle palle fuori dalle palle il Fondo Monetario Internazionale la Banca Centrale Europea deve essere indipendente perché se no le carriole e l'inflazione no io la nazionalizzo perché la Banca Centrale deve fare il mio interesse e non deve fare quello quello di altri e quindi se io non arrivo non esiste che io ho i fornitori dello Stato e non gli pago i soldi di quello che loro si aspettano no piuttosto me li stampo e poi dopo glieli do no e vediamo un po' che cavolo succede dopo che tutto questo è stato fatto abbiamo due nazioni quelli per carità non sto dicendo che siano ben godi ma inflazione in Ungheria zero quindi niente carriole e cose di questo tipo crescono hanno il fiorinetto ungherese perché uno dice ma se tu non hai la monettona grande no chissà che meravigli fiorinetto ungherese sono lì vivono tranquilli ce li hanno tutti contro e nonostante tutto sono ancora vivi e hanno la schiena dritta e sono liberi del loro destino la Grecia ha seguito tutte le ricette tutto quello che bisogna fare devi fare l'austerità devi fare i tagli devi fare le cose avete visto cosa è successo c'è gente che non si paga le medicine c'è gente che non ha non ha più da mangiare c'è gente che non riesce più a dare c'è il più grande la più grande percentuale di denutrizione dei bambini in Grecia perché non hanno i soldi più fisicamente per nutrirli e quei pochi che ci sono gli stiamo dando noi oltretutto è una cosa incredibile perché i crediti che loro avevano i debiti che loro avevano nei confronti della Germania la Germania è riuscita a metterli sul conto del condominio e allora cosa succede? serviva il cameriere per firmare il conto condominio quindi ha levato dalle palle Berlusconi che magari avrebbe potuto chissà mai in un atto perché non gliene fregava niente non sapeva nulla di queste robe qua ma in un momento di follia magari avrebbe potuto dire di no allora giustamente per evitare questo rischio cosa succede? l'ha levato di torno e ha messo il cameriere che la prima cosa che ha fatto è stato io firmo il fiscal compact e io firmo l'SM che significa metto tutti i conti della Germania sul condominio noi alla Grecia non dovevamo nulla eppure i suoi debiti sono stati messi in conto a noi e noi abbiamo pagato negli ultimi anni 53 miliardi per i fondi salvastati qualcuno vi ha avvisato che si spendevano 53 miliardi nostri per i fondi salvastati no però in compenso bisognava fare la coda per la IMU per le cose similari per andare a pagare soldi incredibili guarda caso invece dall'altra parte si davano 53 miliardi all'Irlanda la Grecia la Spagna e così via gli unici fessi di tutta Europa che sono in crisi e pagano siamo noi e d'altra parte se c'era uno che firmava tutti i partiti tutti d'accordo via che si firmano l'unici la Lega che a questo punto hanno detto ma andate non è che vi sto dicendo una cosa strana voi andate a vedervi andate a vedervi le votazioni le votazioni alla Camera al Senato votazioni sul Fiscal Compact votazioni sul MES tutti favorevoli un unico partito di pazzi che dicono no quindi si può scegliere ragazzi si può scegliere poi dopo uno dice ah ma io con la Lega poi dopo mi prendo anche delle cose che non mi piacciono questo e non voglio convincere voi che sicuramente lo farete ma avrete sicuramente degli amici che dicono sì io magari può anche aver ragione però la Lega non mi piace perché poi dopo ci sono i diamanti le mutande questo tipo tutte queste robe qua oppure sono cose che non mi piacciono bene allora a questi signori gli dite guardate io non vi sto chiedendo di farvi piacere la Lega io vi sto chiedendo di farvi piacere un'idea cioè in questo momento c'è un'emergenza e abbiamo un partito che tu puoi crederci o non crederci però sta facendo tutto perché questa emergenza venga venga affrontata e signori correttamente avete detto l'euro finito non è più il problema di dire io devo votare la Lega perché così usciamo dall'euro no cos'è l'European Redemption Fund molto banalmente significa mettere garanzie reali al nostro debito perché noi in questo momento noi possiamo serenamente uscire dall'euro e ridenominare tutto il nostro debito pubblico nella nostra nuova moneta con l'European Redemption Fund metteranno garanzie reali che significa oro eni perché sempre lì sempre lì si va oro eni e poi vogliono cambiare il titolo quinto per far sì che tutti i vostri beni comunali vengano messi a garanzia di questo di questo debito pubblico detenuto all'estero dopodiché voi non avrete più nulla quando passa e Renzi sta spingendo a tappe forzate per arrivare a questo livello questo criminale eh quando passa poi non avete più niente quindi non è euro non euro è vogliamo tutelare le nostre pensioni vogliamo tutelare i nostri risparmi eh sì è perché più più noi stiamo dentro in questa condizione più i risparmi vengono presi ma chi dice che se esco dall'euro la casa vale di meno ma si stanno accorgendo cosa in questi tempi se io provo a vendere una casa che cosa che cosa mi danno o no? E certo come fanno come fanno a comprartela? Sta diventando una colpa avere una casa ma ma se io ma immaginate la beffa no? Uno licenziato no? Licenziato torna a casa con la liquidazione se è fortunato e torna a casa nella sua casetta i tempi belli si poteva chiudere lì e cercare di di programmare il suo futuro no adesso si ritrova si chiude e ti dicono tu sei ricco perché c'è la casa e la liquidazione è ovvio ma è naturale cioè immaginate la beffa e poi dopo ti dicono do 80 euro a uno che magari che non è vero perché poi bisognerà perché voi ci credete che danno 80 euro si dorme mica si dorme mica all'umido e poi dopo vi darò 80 euro a uno che magari invece già sta lavorando quindi finirà che ci sarà il dipendente del senato che avrà magari qualche euro in più una volta è disoccupato invece ti stanno portando via le cose bisogna semplicemente una corsa contro il tempo prima ci si sbriga e prima si finisce perché le elezioni europee diventano importanti uno dice no non conta niente eh sì perché non c'è la Lega la Lega è alleata con altri partiti che in paesi dove c'è un po' più di svegliezza e un po' meno di propaganda si sono già svegliati primo fra tutti la Francia la Francia sono uguali a noi con due anni di ritardo allora ieri sempre a questa cosa degli economisti ho parlato parlava Panagiotis che è questo scienziato greco che dice io quando vengo in Italia mi spavento mi spavento perché io vedo Atene nel nel 2009 io guardate dice è un effetto incredibile io vengo qua vi vedo che voi siete ancora contenti e vi vedo vedo il futuro cosa sarà e vedo della gente che sarà in ginocchio a chiedere la carità negli angoli delle strade così come succede ad Atene perché voi siete esattamente come eravamo noi cinque anni fa la Francia è come siamo noi due anni prima quindi il domino funziona così ma i francesi hanno le palle un pochettino girate e sanno benissimo che quando c'è le cose che non vanno vanno tutti in strada mica come noi che pensiamo sempre che ce la caviamo e tanto qualcosa succede ecco ecco i francesi già un partito che ha come primo programma e non gli fregava niente del destra sinistra le penne la prima cosa che dice non è questione destra sinistra è questione di Francia contro il resto del mondo nostri lavoratori contro disoccupazione loro sono già maggioranza relativa possono scegliere è difficile pensare alla Lega che prende la maggioranza relativa sì in Italia è impossibile però il fatto che sia teoricamente impossibile non significa che non ci si deve provare perché a questo giro se in Europa la somma dei voti della Lega la somma dei voti del Front Nazional del PVV e di tutti questi altri partiti che sono brutti cattivi e xenofobi perché tanto c'è sempre l'insulto ma che vogliono scegliere che vogliono fare come quello là ungherese che vogliono dire ma no ma noi non siamo obbligati a fare le cose noi siamo liberi di decidere di fare le cose a casa nostra come vogliamo ecco se queste persone riusciranno a avere un'affermazione molto molto importante beh le cose potrebbero precipitare prima e prima finisce prima saremo liberi perché in questo momento noi siamo in una specie di trance una specie di ipnosi dove siamo messi dentro in una gabbia tenuta assieme dalla paura ma fuori non c'è il disastro fate attenzione tutte le volte che qualcuno vi racconta del disastro fuori dall'euro di quello che succederà pensate alle cose che vi dicono e vedete se non stanno già succedendo è così qualsiasi argomento vi dicono sta già succedendo 12% di disoccupazione in Italia non si è mai avuto mai hanno truccato persino il titolo del Corriere per far credere che c'era già successo in passato perché il titolone del Corriere diceva disoccupazione 13% mai così alta dal 77 no ma il 77 è stato l'anno in cui hanno cominciato a calcolarla ma era 6 c'era la crisi petrolifera c'erano le domeniche a piedi e cose di questo tipo l'inflazione a due cifre negli anni 80 c'era l'inflazione a due cifre ma quante fortune avete creato voi negli anni 80 ma quanto si vendeva ma quanto si lavorava noi non stiamo mica chiedendo niente stiamo chiedendo di lavorare ed è ed è una cosa che qua si può insegnarla a tutti come si va a lavorare perché io penso che a Bergamo a Brescia a questi posti qua si può dire qualsiasi cosa tranne che non sappiano lavorare ora non sono richieste noi non vogliamo il sussidio non vogliamo la cosa non vogliamo essere pagati dalla Germania perché non vogliamo diventare la Calabria dell'Europa questo no non ce ne frega assolutamente niente quindi noi vogliamo solo essere capaci e messi in condizione di lavorare è una richiesta troppo alta è l'unica maniera per poter essere messi in condizione di lavorare e far sì che i nostri prodotti perché uno lavora non per scavare le buche per terra e poi ricoprirle e i nostri prodotti abbiano il corretto prezzo e il prezzo espresso in marchi non è il nostro prezzo corretto quindi è come dire che ci fanno fare la corsa per fare un esempio 10 persone che devono correre i 100 metri ne abbiamo uno piccolo agile come eravamo noi e ne abbiamo uno grosso e stupido come magari sono loro ecco allora perché dice va bene allora cosa facciamo cosa facciamo come equità mettiamo a tutte e due uno zaino di 50 kg uguale sulle spalle è giusto lo zaino è uguale per tutte e due e no se tu sei piccolo e agile con lo zaino di 50 kg te cade e ti andrei invece se tu sei uno di 150 kg pur lento più stupido non lo senti neanche e vai avanti stai dando un vantaggio ingiusto a lui è quello che stanno facendo con la trucco di dirti ma così è uguale per tutti così facciamo si fa tutto mirato e poi nonostante tutto pensano anche alle regole le famose regole quelle cose lì che Giordano così ben denuncia cosa sono fatte sono fatte esclusivamente per favorire un'industria grande che può mettere lì un ufficio a misurare le curvature delle banane mentre invece uno che ha una fabbrica di otto dipendenti gli arriva l'elenco delle robe che deve fare diventa matto io soltanto a riempire i formulari poi dopo non ho più tempo neanche per produrre quindi fanno apposta fanno apposta fanno apposta vi mentono vi mentono vi mentono per negarvi una cosa che non è una roba che dovrebbe essere strana ma che è il primo articolo della nostra Costituzione Repubblica fondata sul lavoro se l'euro è il contrario del lavoro perché l'euro è la moneta che è favorevole al lavoro degli altri vi ringrazio no 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 voi 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 quello che dovete fare è questo allora ci sono già stati io ho scritto il libretto cercando io ho scritto basta euro cercando di farlo in una maniera il più semplice possibile ma che fosse inattaccabile da quando è uscito fuori non ho ancora ricevuto nessuna segnalazione di cose sbagliate o similari quindi con questo voi potete avere tutte le risposte quelle sui mutui perché sui mutui no il mutuo scusate adesso faccio un mini bis poi dopo vi lascio andare pensate la malafede a gente che vi dice che contemporaneamente vi svaniscono i risparmi e raddoppia il mutuo allora il debito e i crediti sono una cosa è la stessa cosa vista da due facce no se io faccio un debito con lei di 10.000 euro io sono debitore di 10.000 euro tu sei creditore di 10.000 euro ma 10.000 euro sono sempre quelli no ecco allora voi pensate che vi fanno credere che quei 10.000 euro per me che li devo dare diventano 20 per lei che li deve ricevere diventa 0 ma ma guarda veramente hanno la faccia come il culo ma scusate i risparmi sono i crediti a fronte c'è il mutuo che è un debito ma è la stessa cosa perché i titoli di debito e i titoli di credito alla fine sempre di soldi stiamo parlando ora io dimostro che più o meno le cose rimangono uguali probabilmente c'è più un vantaggio per se sto parlando di una cosa denominata in euro per chi c'ha il mutuo rispetto a chi c'ha il bot perché probabilmente svalutandosi un po' così via però chi ha i risparmi volendo è libero di tutelarsi cioè chi ha paura dell'inflazione e quindi vuol tutelare i risparmi può comprare per esempio i BTP Italia che si adeguano all'inflazione quindi non avrebbe nessun danno può scegliere di venirne fuori mentre invece cosa succede loro ti dicono che il tuo vutu raddoppia e il tuo risparmio si dimezza ma insomma è la stessa cosa quindi tutte queste risposte voi le trovate qui io vi chiedo solo questo vi chiedo di andare a parlare con la gente e tirar fuori degli esempi banali per fargli capire che forse non è che lui è disoccupato perché ci sono i parlamentari che non pagano lo scontrino può anche starmi sulle balle ma quello che vota Grillo perché dice che bello che loro sono quelli che poi dopo rimborsano lo scontrino e si ho capito ma dopo che questi hanno rimborsato lo scontrino il mio lavoro lo riprendo oppure oppure no no bisogna cominciare a parlare di lavoro e far capire che c'è un partito che ha avuto il coraggio di mettere per una volta invece delle parole invece del perché bisognerebbe allora più diritti l'Europa dei popoli non l'Europa delle nazioni no tutto questo fumo di Londra dice no c'è un problema da risolvere questo lo risolviamo poi dopo dopo le europee questo tipo quando una volta che noi saremo fuori dall'incubo ma le rifacciamo le squadre ognuno poi dopo avrà le sue preferenze ognuno dirà io preferisco che ne so la sinistra io preferisco la destra io preferisco più tutele per i lavoratori io preferisco più tutele per i commercianti ognuno avrà le sue si rifanno le squadre dopo ma al momento siamo in guerra siamo esattamente in una guerra dove il diritto del più forte di far secco gli altri è passato come una cosa normale un principio che noi ci siamo sradicati dalla testa per molto tempo che era quello che non è che uno perché è più grosso più forte e così questo tipo ha il diritto di fare il cacchio che vuole con tutti gli altri perché allora che cacchio ci sta a fare lì belgio cioè la Francia potrebbe invader se non ha tanto più grande una roba che una conquista di cultura di civiltà del fatto che anche i piccoli hanno diritto di rimanere un po' per i brodi loro con le loro tradizioni hanno il diritto di vivere hanno diritto di avere una patria propria passato che con le armi non è buono prendere e conquistarli e farli secchi perché sono piccoli e quindi io li posso conquistare volentieri ecco che sono riusciti a far passare lo stesso principio con l'euro con la finanza tu non sei competitivo non ce la fai devi andare a zero e no mi spiace questo è nazismo i nostri nonni hanno vissuto quello là e perché noi dobbiamo vivere questo qua adesso dalle armi è più difficile scappare dalle euro si può quindi ragazzi svegliamoci